la dammi un bel bianchetto acqua tonica per mamma mamma c'è di là l'amministratore affrontiamo la situazione 1600 euro guarda qua ma è tre anni che non paghi venena te la ponte le scalo proprio te la pago io me la puoi tenere qua due giorni mia madre mia madre via gianni la zia non me la sento io ti devo chiedere una cosa me dovresti tenere mia madre ma di salute una roccia mamma prende per la pressione amlodipina no sughi rossi la sera il pomodoro cotto le dà acidità non riesce a dormire allora vieni gianni puoi recuperare un pochetto la televisione vieni prendete la televisione e va vieni apri per favore io devo apparecchiare no voglio stare da sola grazie ma tutta la pasta al forno che sei mangiata mi farà gosto distinto 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 sì sì Grazie.